Caterina Bosetti, un'altra vittoria, era importante, è stata una sofferenza, ma anche in questo si formano le squadre poi? Sì, certo. Penso che sono due punti conquistati, anche se diciamo che abbiamo fatto noi la partita. I noi bassi e noi gli altri, quindi sono due punti importanti, visto che arriviamo anche da due settimane non facili, anzi, per niente. Quindi siamo state brave a portare a casa la vittoria. Anche perché dopo che Firenze ha vinto il quarto set, l'inizio di quinto set era stato complicato, è servito davvero mettere in campo tutto e forse anche qualcosina in più. Sì, penso che ci mancava un po' quella sicurezza che avevamo guadagnato nelle ultime partite giocate. Quindi quando arrivano due errori magari di fila, facciamo fatica a uscirne subito e la dimostrazione è stata anche l'inizio del T-Break. Però poi dopo un breve noi che abbiamo recuperato non è facile in un T-Break sotto quattro punti portarla a casa così. Mercoledì c'è un'altra partita contro Funio, un altro avversario che viene da un periodo difficile ma che ha dimostrato prima di essere avversario di buon livello. Certo, dobbiamo tornare a sentire la fiducia tra di noi, avere le nostre sicurezze, i nostri punti fermi. Quindi testa mercoledì e vedremo. Ci abbiamo tante partite.